Anche oggi come martedì niente mercato a valle. Le strade del quartiere destinate ad ospitare il mercato di Avellino sono rimaste vuote anche questa mattina. Nel frattempo sono circa 160 i commercianti che hanno sottoscritto le rateizzazioni per mettersi in regola per il pagamento di Tosa, Pettari. Questi avrebbero potuto svolgere regolarmente il mercato questa mattina ma alla fine nessuno ha allestito i banchi a valle. Intanto la camera di commercio difende il primo cittadino sul caso mercato. Il presidente Oreste La Stella durante la vista del governatore De Luca ha preso pubblicamente le parti di Gianluca Festa dichiarando per la prima volta in 30 anni un sindaco mette mano su un problema tabico della città. Serve una razionalizzazione per tutelare gli onesti. Mentre continua il braccio di ferro tra ambulanti e amministrazione comunale procedono i lavori a Campo Genova, area che diventerà sede definitiva del mercato bisettimanale. Gli interventi di sistemazione dell'area verranno ottimati entro fine mese. Il sindaco dunque va avanti per la sua strada ed i commercianti per la loro. Nelle prossime ore infatti presenteranno il ricorso incentrandolo sul fatto che il parcheggio dello stadio destinato ai pullman sarebbe stato riservato al mercato fino a fine 2021.